Rossini TV accende ancora una volta le telecamere sulle segnalazioni di voi cittadini. Nei giorni scorsi una nostra telespettatrice ci ha denunciato una situazione di degrado ed incur riguardante la pavimentazione del centro storico e in particolare alcune buche createsi in questa zona in cui ci troviamo. Ci troviamo in via Amnesio Nobili, alle spalle di Piazza del Popolo, della centralissima via San Francesco. Siamo nel retro di attività note come la pasticceria Arlecchino, come la farmacia Albini e la stessa osteria La Guercia. Le immagini che vi mostriamo evidenziano quanto sia malmessa questa pavimentazione con un porfido che si è sconnesso negli anni e buche che si sono fatte via via più traballanti, profonde e pericolose, dove i piedi di chi transita rischiano di affondare e incappare in traumi anche seri. Va però fatta una precisazione importante. Il terreno in cui si trovano queste buche è di proprietà privata ed è legato alle pertinenze di un'abitazione condominiale adiacente. La proprietà privata non esclude però il pericolo per la comunità perché parliamo di un suolo di abituale transito pubblico per i tanti che scegliono questo passaggio alternativo da e per Piazza del Popolo. E dunque siamo in una situazione di confine fra il diritto di proprietà privato e quello della tutela pubblica. Due buche ampie e pericolose, ancor più pericolose per chi transita in questo tratto stradale in orario notturno. Proprio in questi giorni l'amministrazione comunale è alle prese con lo studio di fattibilità per un ampio progetto di rifacimento del selciato e della pavimentazione della piazza, è un progetto che si punta a realizzare entro l'estate prossima. Esistono dunque situazioni più emergenziali rispetto alla piazza che però non possono aspettare tutti questi mesi. Questo è un caso particolare, si parla di proprietà privata, ma è un tratto di centro storico comunque aperto al transito pubblico e dunque non si escludono pericoli come cadute o traumi per chi transita vicino a queste buche.